buongiorno buongiorno oggi è lunedì 24 settembre la segna stampa in breve di video 33 nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione sarà anche oggi una giornata l'insegna del cielo sereno solo qualche nuvola innocua in transito attenzione notevole e sensibile flessione dei valori massimi presenza anche di raffiche di vento in regia abbiamo massimo moro con il suo aiuto andiamo a vedere quello che accade questa mattina intorno alle 6 30 sulla conca che ospita la città capoluogo cioè bolzano vedete all'orizzonte qualche nuvola in alta quota in transito con la grafica andiamo a vedere quello che accadrà con il passare delle ore abbiamo detto abbassamento dei valori massimi bolzano 22 gradi nelle ore centrali merano 21 silandro 18 18 gradi anche a bressanone 16 bruno brunico 12 gradi a vipiteno andiamo a vedere quello che accade in provincia di trento anche qui 22 gradi a trento e ad ala 23 gradi arriva del garda 16 gradi a pinzolo identica situazione a cavalese 15 a moena e 18 gradi a fiera di primiero come sempre le aperture dei quotidiani che troviamo oggi ne dicola la stampa a livello regionale iniziamo con l'alto adige a la leucemia niente asilo i ricordi dicono non può stare con i bambini non vaccinati grande successo per l'edizione record della bolzano in bici carica la carica dei 6.000 amanti delle due ruote il l'inserto l'inserto del lunedì monitor dedicato alla radio italiana più seguita in alto adige nbc rete regione parlano i protagonisti andiamo in trentino con il trentino la battaglia della marmolada il governatore rossi dice stop con le sceneggiate venete interviene fugatti a zaia non lascio quei 30 metri e poi lasciate i supermercati aperti domenica turni per i commessi parlano i consumatori la cronaca cura dell'adige la sfida per gli autonomisti dopo le uscite del pat dal pat tra liste in tre schieramenti diversi casvaldere e ottobre tentano di erodere consensi alle due stelle alpine di rossi grande successo rovereto per la manifestazione che ha visto protagonisti i vigili del fuoco torniamo in provincia di bolzano con la cronaca lingua tedesca cura del quotidiano dormiten la nuova vita dell'aeroporto di bolzano abbiamo visto l'anticipazione della notizia sulla cronaca lingua italiana nei giorni scorsi il lo scalo lo scalo di san giacomo si posiziona al terzo posto a livello nazionale per atterraggi transiti traffico aereo dopo i due colossi di milano e roma sono sempre di più gli altoatesini che decidono di vaccinarsi contro le malattie causate dalla puntura della zecca il corriere della sera per notizia a livello nazionale scontro su ponte migranti la lega dice basta tergiversare su genova tensioni sul decreto sicurezza l'ipotesi del taglio fino all 1,5 per cento delle pensioni per ogni anno di anticipo oggi è lunedì troviamo l'inserto dedicato all'economia attenti senza l'impresa non si cresce parla antonio per cassi colui che ha portato starbucks in italia e poi l'inserto dedicato alle buone notizie va tutto a rotoli dipende da come la vedi come cambiano i punti di vista e soprattutto il ruolo dell'ottimismo il sole 24 ore con le pensioni a quota 101 salvagente nelle crisi allo studio un ritiro anticipato per i lavoratori tra i 62 e i 64 anni è tutto in chiusura vi ricordo gli appuntamenti da non perdere in provincia di bolzano dal 29 di settembre al 22 di ottobre il capodanno birraio presso lo schlosswirth della forst il 30 di settembre la festa di fine stagione presso il giardino forst il 5 di ottobre ok su ghiaccio protagonista con il bolzano che aspetta il vienna sul ghiaccio di casa il 7 di ottobre il calcio è protagonista con il sutirol che attende l'albinoleffe e dal 12 al 14 di ottobre la casterruten feste la festa dedicata ai passerotti di casterrotto ovviamente nel loro paese di origine è veramente tutto io vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di video 33 ciao ciao ciao